Ragazzi, cheers! Grande partita del Bari contro il Parma, oggi in serie B, stavo dicendo serie A, l'Apsus, dopo il rientro, dopo due settimane di stop. Adesso esce Folloruscio e c'è un ricambio dalla panchina e vi chiedo un'iscrizione al canale ragazzi, iscriviti al canale di Bella V, mi aspetto tante iscrizioni, quante views ottengo. Sono l'unico, uno dei pochissimi che su YouTube parla di Bari, iscriviti al canale, dentro Belluomo fuori Folloruscio, dentro Malamo fuori Benedetti. 3-0 del Bari contro il Parma, importantissimo perché il Parma è una squadra forte, il Parma fino a tre giorni fa stava vincendo fuori cassa a San Siro contro l'Inter e stava per battere l'Inter, non so se è chiara la cosa, e anche i risultati degli altri campi, ci stanno dicendo che è interessante questa vittoria del Bari perché il Cuomo sta perdendo 2-0 a Cagliari, il Perugia sta battendo 3-2 al Palermo, il Pisa soprattutto sta perdendo 2-1 in casa contro il Cittadella, quindi si rischia la caduta del Pisa in casa contro il Cittadella, il Pisa è il nostro diretto competitor, e soprattutto la Regina sta perdendo in casa con la SPAL di De Rossi, quindi qualora si avverasse, la Regina è un po' in difficoltà da un po' di domeniche, io lo vado dicendo, a Como hanno vinto per il rotto della cuffia, Como Regina con quel fallo di mano in area all'ottantesimo, insomma, stanno andando un po' avanti a Spizziche e Bocconi, con noi hanno pareggiato in casa, adesso c'è la SPAL che a quanto pare sta facendo lo scherzetto a Inzaghi che vuole un attaccante, e lo sanno tutti, Pecchi ha deluso in panchina, si è piato 3 gol, un primo tempo, no way, Bari fortissimo, Bari fortissimo, un saluto ai detrattori del Bari, Bari 3 a 0, 3 che dira, non è solo che dira però, non è solo che dira è finalizzatore, dietro c'è tutta una squadra che lavora benissimo, partiamo dal mister, un grande mister che oggi fa una scelta azzeccatissima, quella di Ceter, Ceter, un mister che ha coraggio, che non ha paura di sbagliare, che solo chi fa può sbagliare, un mister che ha coraggio, un mister che ha messo dentro un Ceter peso a centrocampo, muscoli, forza, capacità di controllare il pallone, di resistere all'aggressività avversaria, che duplica o triplica per venirti a rubare il pallone, un Ceter devo dire molto molto bravo in fase di controllo, difesa del pallone, è molto bravo a far sedere la squadra, con Foloruscio, con Foloruscio messo in attacco, come mezza punta, seconda punta, attaccante Foloruscio, che comunque mette fisicità, quindi una squadra, un Mignani, un Bari che cerca fisicità. Foloruscio, Ceter che dira però, Foloruscio e Ceter si sono un po', se vedete la partita, sono un po' avvicendati, ogni tanto veniva Foloruscio a destra, eccetera, al centro, ogni tanto si intercambiavano, Ceter si è mangiato anche un gol davanti al portiere, forse lì poteva passarla però, è andato d'esterno, un po' la scoderato, cioè ha scoderato la palla, l'ha spizzicata male di esterno-destro e l'ha buttata addosso a Buffon. Per quanto riguarda Benedetti, benissimo oggi, benissimo ragazzi, Benedetti c'è una bella tecnica, è un giocatore che ha futuro, perché oltre ad avere una bella tecnica ha messo due palle, ragazzi, di destro, delle rifiniture pazzesche, anche con la giusta velocità, già giocatore della Serie A. Infatti il primo gol di che dira nasce da un'intuizione di Benedetti, che lascia sfilare sulla sinistra una palla importantissima, il secondo gol lui fa l'assist a che dira, che poi si procura il rigore, il terzo gol è un'uscita strampalata di Buffon su Ceter che era rigore netto, secondo me la Ceter poteva essere anche il rosso su Buffon, quindi nonostante ciò Benedetti ha fatto anche un'azione paurosa, che non si vadeva da tempo in Serie B, nemmeno in Serie A, c'è un controllo, ragazzi, uno stop sulla sinistra, una visione del campo, nonostante non avesse la possibilità di vedere tutti o gli inserimenti dei compagni, è un cambio gioco sulla destra pauroso, degno di un giocatore che potrebbe diventare un grande giocatore. Un grande giocatore. Quindi complimenti a Benedetti, complimenti a chi lo sostiene, a chi lo difende, a chi l'ha voluto. Maiello molto bene, Maiello molto bene, anche se all'inizio del primo tempo qualche scricchiolio ancora Maiello, sappiamo che ha sbagliato sul secondo gol del Genoa, perché si è girato di spalle, ha fatto tirare, sono stati fortunati quelli del Genoa sul secondo gol della penultima partita a San Nicola, Maiello però si è girato e là ha commesso un errore, non ci si gira, Maiello ha sempre molto bene, ha sferato anche il gol, un bel tiro da fuori. Esce che dira adesso? Standing ovation, gli applausi per che dira? Diamo valet! Diamo, 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 diamo. Ragazzi, un'iscrizione al canale, non iscrivetevi solo da quelli che urlano. Iscrivetevi anche a chi fa delle analisi tutti i giorni e segue il Bari con passione. Entro Salcedo, fuori, fuori che dira? Che più? Fuori, fuori, fuori che dira? E' entrato, è entrato doppio cambio, mi sa? Una possibilità che dira Salcedo, ah, è entrato a Tenucci, una squadra molto tranquilla, devo dire, i giocatori tranquilli, sono ben allenati. Dentro a Tenucci, fuori Ceter, complimenti al mister per l'ottima intuizione su Ceter, un Bari che nel secondo tempo sta controllando, sta controllando la gara, ed è una vittoria molto importante in vista di, diciamo, di playoff, diciamo di playoff. E' molto importante perché gli altri squadri in Serie B stanno avendo problemi. Cittadella continua a vincere a Pisa 2-1, risultato inatteso, quindi vuol dire che si sono date una strigliata per andare a vincere a Pisa, quelli del Cittadella, che venivano da una serie di filotto, da un filotto di gare negative. La Spal continua a vincere a Reggio, con autogol di Gagliolo, povero Gagliolo. Purtroppo è molto, l'ho visto in campo molto, con questo agonismo, un po' spinto Gagliolo. Già è stato squalificato la scorsa gara, mi sa, o quella col Bari era squalificato. Adesso si fa un bel autogol, che fa bene a campionato, dà ossigeno a quelli che rincorrono, no? E poi c'è questa vittoria del Cagliari, esordiente Ranieri. Vediamo un po' come si mette con Ranieri, però Pavoletti, papapapapapapapapavoletti, è andato in gol, poi è arrivato ad doppiato Azzi. Però è il Cuomo che viene rallentato, e questo fa bene, fa bene ragazzi. Come vedete ogni gara, anche il Perugia che vince in casa col Palermo, 3 a 2. Perugia che sta iniziando a diventare un po' più rabbioso, è il Palermo che è riuscito ad accorciare, 3 a 2 a 48esimo con Valente, ma quanto pare, quanto pare non riesce ancora a pareggiare. L'unica cosa che il Frosinone gioca fra un po', quello in casa col Modena, vediamo se ci saranno sorprese anche lì, vediamo se ci saranno sorprese anche lì, e poi domani abbiamo una bella sfilza di parti interessanti, su Tirol Brescia, Cosenza, Benevento, Terran Ascoli, e poi il Genoa gioca lunedì. Il Genoa che, come sappiamo, deve piangere ancora con i tre punti, presi a San Nicola immeritatamente, quindi noi le aspettiamo. Genoa in casa col Venezia, ok? Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, grande vittoria del Bari, terza vittoria del Bari in casa, in questo campionato, dopo Brescia, si a 1 e Modena 4 a 1, un bel 3 a 0 al Parma, stiamo battendo tutte le squadre, insomma, forti, e il Parma è una squadra fortissima, ve lo ricordo ancora, stiamo battendo il Parma, che tre giorni fa stava vincendo contro l'Inter a San Siro, e la Coppa Italia, si intanto l'Inter ha messo dentro pure le cannonate, e se l'è cavata con un gol di Lautaro Martinez, ragazzi, non di uno qualsiasi, oltre l'ottantesimo, hm? Do you understand? Est-ce que tu comprends? Ragazzi, iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate, tanti video su questa partita usciranno, ma c'è poco da dire, che dire a tre gol, tutta la squadra, un gruppo perfetto, una macchina perfetta, noi pensiamo già alla prossima, pensiamo già alla prossima, che sarà, che sarà la prossima, la prossima giornata, pensiamo già alla prossima giornata, ragazzi, pensiamo già alla prossima giornata, pensiamo già alla prossima giornata, Andremo a Palermo, Palermo-Bari Palermo-Bari, inizia a parlare Una città difficilissima a Palermo Ultimo check sui risultati Di oggi Niente, non cambia ancora nulla Non cambia ancora nulla 3-3, Palermo ha pareggiato Vedete, ve l'ho chiamato Palermo con Brunori, Brunori, gran giocatore Riesce a pareggiare Riesce a pareggiare a Perugia, buono oppure a questo pari Così Perugia si sta tranquillo Alla prossima ragazzi Iscrivetevi al canale